Sente, sei Massimo Carlotto perché tu e te siete i sabotatori. Siamo i sabotatori perché usiamo il romanzo per raccontare le trasformazioni di questo paese in modo critico. A partire da una serie di storie negate per quanto mi riguarda, oppure attraverso una critica della realtà che parte da un progetto fantapolitico ambientato nel futuro. Ormai in Italia si può fare informazione solo con la satira e con la narrativa o è una visione troppo pessimistica? No, è una visione molto realistica, funziona così, funzionerà così, poi alla fine potremo tornare a scrivere. Quando sarà sconfitto il partito della felicità? Eh, sarà tra 2023 per cui ancora l'unica è strana. Bene, grazie. Grazie a voi.